Buongiorno, mi chiamo Viviana Ghizzardi e oggi vedremo insieme un esercizio di tonificazione della parete addominale per cui avremo bisogno solamente di una sedia, possibilmente senza braccioli. Ci sediamo sulla parte davanti della sedia appoggiando bene i piedi a terra a una distanza tra di loro pari a quella dei fianchi. Incrociamo poi le braccia appoggiando la mano sulla spalla opposta. Da questa posizione arrotondiamo la schiena per andare ad appoggiare la parte alta del dorso contro lo schienale. Ora, inspiriamo. Durante la fase di espirazione tiriamo in dentro l'ombelico, portiamo il mento vicino al petto e spingendo leggermente i gomiti verso il basso, contraiamo la parete addominale per staccarci lentamente dallo schienale e portarci in una posizione perfettamente eretta, con lo sguardo rivolto all'orizzonte dove inspireremo. Durante poi la fase di espirazione successiva porteremo nuovamente il mento verso il petto, arrotonderemo la schiena e frenando la discesa con la parete addominale andremo il più lentamente possibile a riappoggiare il dorso contro lo schienale dove inspireremo nuovamente. Quindi, durante la fase di espirazione, ombelico in dentro, contrazione della parete addominale, movimento lento. Durante la fase di riposo, pausa, inspirazione e poi nuovamente mento vicino al petto, ombelico in dentro, parete addominale che lavora. Se durante l'esecuzione di questo movimento doveste avvertire mal di schiena o mal di collo, interrompetelo immediatamente. Se volete renderlo un pochino più complicato, quando tornate indietro potrete fermarvi un millimetro prima di toccare lo schienale della sedia. Comunque, eseguite almeno 15 o 20 ripetizioni di questo movimento prima di riposarvi. Buon lavoro!